Rafforzare molto l'impiantistica alternativa agli inceneritori, cosa che stiamo già facendo, soprattutto con la città metropolitana, mettendo insieme Sapna e Asia, far funzionare meglio gli stir e dando una accelerata alla realizzazione degli impianti di compostaggio. La holding dà sicurezza alle società partecipate, le razionalizza, si utilizzano meglio le risorse e si conferma nella città di Napoli che i servizi essenziali rimangono in mano pubblica. Farò delle proposte ulteriori rispetto a quelle fatte, non dire solamente no come abbiamo fatto in questi mesi, il piano su Bagnoli l'abbiamo presentato, adesso faremo un'altra proposta all'inizio di settembre per dimostrare al governo che è la strada ordinaria quella per rilanciare Bagnoli, non servono poteri speciali, commissariamenti e mani sulla città.